...che ha deciso di darti quel premio. Grazie. Ah, per carità. No, 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 mi ha fatto particolarmente piacere, che è un premio alla libertà. Infatti, lo conoscevo. Alla libertà. Cari amici, buonasera. Come vedete sto conversando amabilmente con un personaggio che tutti quanti voi conoscete benissimo, che è Magdi Cristiano Allam e sottolineo Cristiano perché lo vedremo più avanti nel corso di questo nostro incontro. Cristiano è un nome acquisito di recente il giorno? Il 22 marzo. Il 22 marzo. Con il mio battesimo. Marzo scorso. Con il battesimo ed è poi dopo l'argomento di cui discuteremo quando parleremo del libro più recente di Allam che è Grazie a Gesù, la mia conversione dall'Islam al cattolicesimo. Ecco, io di Allam vorrei sottolineare per cominciare un aspetto molto particolare perché io ogni volta che ne sento parlare, perché qualcuno mi riferisce ai suoi spostamenti o in questa occasione quando lo vedo, mi rendo conto di quanto sia difficile la sua vita perché deve vivere una vita da sorvegliato speciale con enormi difficoltà evidentemente. Io immagino che sia difficile anche avere rapporti diciamo così familiari in qualche modo perché anche la famiglia dovrà essere difesa eccetera. E quindi per sostenere tutto questo bisogna avere un coraggio personale molto, molto forte e dei principi morali assoluti ai quali evidentemente ci si ispira. È così? Certamente. Bisogna essere animati da una solida fede. Alla fine diventa una missione quella di affermare la verità nella salvaguardia della propria libertà interiore. C'è sicuramente un sacrificio che viene affrontato sul piano della libertà fisica di movimento, relazionale con dei familiari, degli amici, dei propri cari ed è un prezzo che io alla fine ho ritenuto, ho accettato di pagare per salvaguardare la mia libertà interiore che è la libertà d'espressione, che è la libertà di scrittura, ma è anche la libertà di incontrare tanta gente, ciò che faccio ormai da sei anni in tutta Italia per condividere una riflessione sui valori, sulle regole, sull'identità, cioè su quello che è il fondamento della nostra civiltà. Molto bene. Senti, ma hai parlato di sei anni. Sei anni sono quelli che tu hai dedicato a questo girovagare, a un certo punto di vista, per comunicare personalmente a tutti. Però evidentemente avrai cominciato prima questa tua... cioè da dove nasce questa tua interiorità, questa tua moralità? I sei anni sono i sei anni che corrispondono al periodo in cui vivo sotto scorta. Io ho sotto scorta. Il mio percorso di spiritualità interiore inizia di fatto da quando ero piccolino, all'età di quattro anni, per uno di quei casi che poi, proprio per il fatto che cambiano tutto il corso dell'esistenza, nascondono la mano della provvidenza divina. E fu quando io ebbi l'opportunità di cominciare a studiare e a vivere in delle scuole italiane cattoliche al Cairo, la mia città natale, prima dalle suore combognane e poi dai religiosi salesiani. E quello fu l'inizio di un incontro con tanti autentici testimoni di fede cristiana, delle religiose, dei religiosi che, avendo votato la loro vita per la fede in Gesù e manifestando questa fede con delle opere buone, mi hanno affascinato e mi hanno convinto della bontà della religione cristiana. È giusto che così sia, stavo riflettendo mentre tu parlavi, perché evidentemente è quasi sempre qualcosa che ci capita nella più giovane età, che ci dà poi la spinta verso qualcosa che poi sarà il resto della nostra vita. Ecco, non è quello che vorrei che fossi chiaro, non è stata un'affolgorazione, è stato un percorso graduale, lento. Io ho 56 anni, quindi mi sono convertito… Certo, hai impiegato più di 50 anni quindi per arrivare alla conversione. Esatto, e questo a me rassicura perché significa che è una spiritualità che ha delle radici solide, ed è un percorso di spiritualità interiore che si è consolidato nel tempo con l'incontro con tanti testimoni di fede. Ecco, vorrei fosse molto chiaro che è la dimensione dell'incontro con dei testimoni di fede quello che per me ha rappresentato il cristianesimo. Quindi non una dottrina, non un'ideologia, non un processo razionale, ma è l'incontro con una persona che ti coinvolge integralmente nell'insieme della tua umanità. E c'è stato recentemente, quindi nella fase matura di questo processo, un incontro particolare, quello con il Santo Padre, il Papa Benedetto XVI, che è stato quello che più di altri mi ha illuminato e mi ha fatto comprendere che quella spiritualità interiore corrispondeva pienamente alla fede cristiana. E questo mi fa, scusa, salto un po' avanti diciamo nel discorso, poi magari torniamo indietro, però mi viene in mente il momento in cui tu ti sei incontrato pubblicamente in televisione con il Santo Padre, è stato un momento veramente eccezionale, secondo me c'era una partecipazione veramente molto, molto profonda. È stato, io l'ho definito, il giorno più bello della mia vita. È stato il regalo più bello che la vita potesse riservarmi, il ricevere i sacramenti di iniziazione al cristianesimo, il battesimo, la cresima e l'eucaristia direttamente dalle mani del Santo Padre. Sono state tre ore straordinarie, quelle trascorse all'interno della Basilica di San Pietro nella notte della veglia pasquale, lo scorso 22 marzo, ed io ho voluto proprio raccontare questa grande gioia nel mio libro, Grazie Gesù, perché restasse un documento che illustrasse bene sia la gioia della grazia nella fede cristiana, sia anche quello che è il racconto del percorso di spiritualità interiore, che da un lato è segnato dall'incontro con i testimoni di fede, dall'altro da quello che è stato un rapporto problematico e poi man mano sempre più conflittuale con l'Islam, la mia religione di origine. Certamente, parleremo naturalmente anche dell'Islam. Hai parlato naturalmente del tuo libro, ne hai scritti altri, li abbiamo qui davanti a noi, siccome qui siamo in un ambiente in cui dovremmo parlare soprattutto di libri, ti chiedo, tu sei, tra i pochi bisogna dirlo, visto il numero delle copie che vengono vendute dei tuoi libri, che possono in qualche modo confermare che ancora oggi, malgrado tutta la concorrenza che può avere la scrittura e possono avere i libri, scrivere consente ancora di arrivare a tutti. Cioè questo credo che tu l'abbia verificato, lo fai anche girando e parlando e così via, mai il libro, però, credo che sia lo strumento fondamentale, insieme ai tuoi articoli. Direi che è uno strumento eccezionale, è il mezzo che ormai da più di sei anni mi ha consentito di raggiungere i cuori, elementi, direi di decine e decine di migliaia di italiani in tutta Italia e questo per me è un grande conforto, è un grande conforto perché tocco con mano nell'incontro reale con queste persone perché si sta insieme nella presentazione del libro, poi le persone vengono invitate a fare delle domande, a interagire, poi c'è un momento di incontro nella firma di dediche personalizzate a quanti lo richiedono ed è un momento in cui diciamo a tu per tu si crea una bella intimità. È un grande conforto perché io tocco con mano la voglia di valori veri da parte di tanti italiani ed è un conforto perché significa che c'è la speranza. Senti, di tanti italiani hai detto, non di tutti naturalmente, perché anzi c'è una parte di questo paese che nei confronti delle tue idee, anche di tutte le persone che la pensano come te, che sono veramente tante, ma ce ne sono altri che invece hanno idee completamente diverse. Che rapporti hai con questi? Non so, per esempio anche nel campo del giornalismo, nel tuo passaggio da una testata all'altra, per esempio da Repubblica al Corriere della Sera, come si pone da questo punto di vista? Io credo che oggi noi dobbiamo tenere conto di un contesto internazionale in cui la crisi di valori e di identità che pesa enormemente nella capacità di reggere sul piano della sicurezza, della stabilità e sul piano della pace anche mondiale, ci impone di andare avanti in un percorso che è quello di affermazione della verità fondata su fatti oggettivi. Io, come dire, di formazione sono un sociologo, di professione faccio il giornalista e, come dire, sono perennemente alla ricerca dei fatti, dei fatti oggettivi, dei fatti, come dire, senza mistificazione, senza ideologismi. Così come mi pongo sempre la domanda delle conseguenze di ciò che scrivo, di ciò che dico sul vissuto delle persone. Quindi tendo a fare un giornalismo ed una comunicazione che siano oggettivi e responsabili. A parte ciò, come dire, non mi interessa tutto il resto. Non mi interessa. Cioè io sono un nemico dichiarato della par condicio. Credo che la par condicio sia uno dei mali principali presenti nel sistema della comunicazione oggi in Italia. Perché il ritenere che l'informazione corretta sia il punto di equilibrio tra il tutto e il contrario di tutto porta al risultato che noi rendiamo la gente cretina. Cioè non mettiamo la gente nella condizione di arrivare alla verità. Perché si dà la sensazione che tutto e il contrario di tutto siano la stessa cosa. Io ritengo che siamo in una fase storica invece in cui dobbiamo aiutare la gente a toccare con mano la verità, dando dei fatti oggettivi, rassicurando loro delle nostre buone intenzioni, che significa volere il bene comune e l'interesse generale e lasciando a ciascuno la libertà di trarre le proprie valutazioni. Bene, io credo che adesso dobbiamo fare una piccola interruzione. È così? La linea alla regia. Bene, proseguiamo questo nostro incontro parlando, prima si era già accennato, dell'islamismo perché è assolutamente indispensabile parlarne. Ecco, cominciai tu magari a dare un po' un'idea di quello che è stato il tuo travaglio, il tuo iter nel campo dell'islamismo. Poi ti farò alcune domande specifiche. Io vorrei evidenziare due punti brevemente. Il fatto di essere nato da una famiglia musulmana in un paese a maggioranza islamica e di aver però frequentato delle scuole cattoliche sin da piccolo mi ha fatto sin da piccolo porre la domanda quale delle due religioni corrispondesse alla verità. Quindi c'è una domanda implicita di verità che in qualche modo prelude anche alla formazione giornalistica legata a questa condizione relativa alla religione. Il secondo punto è che io mi sono veramente speso per tanti anni per far sì che ci potesse essere un islam moderato. Da musulmano moderato, laico, liberale, ho veramente ricercato un islam che potesse coniugare fede e ragione. E il ritrovarmi a fronte di questo mio impegno, condannato a morte, minacciato, intimidito, mi ha costretto ad andare a fondo delle ragioni invocate da coloro che mi condannano nel momento in cui loro dicono di farlo nel nome dell'Islam, invocando dei versetti coranici, evocando le gesta di Maometto. E alla fine io mi sono dovuto arrendere, cioè ho dovuto dire hanno ragione loro perché effettivamente nel Corano ci sono tanti versetti legittimanti un'ideologia di odio, di violenza e di morte, così come nella vita di Maometto ci sono tanti esempi che attestano come non solo sia stato un condottiero che ha combattuto e ha ucciso, ma si è personalmente reso partecipe e protagonista di efferrati crimini come quello che nel 627 lo ha visto partecipe della strage e della decapitazione di oltre 700 ebrei maschi adulti della tribù dei Banu Quraysh. Di fronte a questi fatti che i musulmani non smentiscono, io ho preso atto dell'incompatibilità tra l'Islam e i valori in cui ho sempre creduto e per i quali mi sono sempre battuto. Ecco, senti, questa incompatibilità che tu hai verificato deriva indubbiamente, vabbè, la religione, è chiaro, le interpretazioni che ne sono state date di alcuni versetti che sono stati date, eccetera, ma io ritengo, ma mi devi confortare oppure smentirmi se è del caso, che dipenda moltissimo, perché lo vedo per esempio in te che eri sicuramente una persona a modo, diciamo, come sei adesso anche quando eri un islamico Allora, io credo che molto dipenda anche dalla educazione, che è un po' anche, è chiaro che sull'educazione influisce anche la religione, un po' tutto quanto, ma un'educazione diversa da quella che viene data in genere agli islamici non potrebbe far sì che si potesse arrivare a un rapporto diverso con noi cristiani? Allora, certamente, se noi parliamo di persone, non solo è possibile, ma è una realtà, cioè esistono tanti musulmani che sono persone per bene, sono moderati, sono persone con cui, come dire, si può tranquillamente convivere, costruire insieme una comune civiltà dell'uomo. Il problema si pone a livello della religione, della dimensione che riguarda la religione. Ora, l'islam ha una specificità, l'islam è la religione del Dio che si fa testo e che si incarta nel Corano, quindi per i musulmani il Corano è Dio, è un tutt'uno con Dio, non è quindi penetrabile dalla ragione, non può essere, come dire, interpretato con gli strumenti della valutazione e della critica. Quindi gli estremisti islamici hanno ragione quando dicono che alla base del loro efferato comportamento c'è una legittimazione coranica e c'è una legittimazione legata al comportamento di Maometto. Hanno perfettamente ragione, non è affatto vero che l'estremismo e il terrorismo islamico siano la conseguenza di una interpretazione faziosa e radicale di una minoranza. È esattamente l'opposto, è la corretta trasposizione di ciò che c'è nella integralità del Corano. Quindi con le persone noi possiamo dialogare, possiamo convivere, ma dobbiamo prendere atto che se l'islam è il Corano e Maometto non può essere una religione moderata. Tu mi apri una prospettiva che insomma è molto preoccupante, o non sei d'accordo? Vedo che facevi una faccia un po' particolare. No, perché noi conviviamo con le persone, cioè tu non ti rapporti con l'islam come religione, tu hai a che fare con delle persone, quindi non solo, ma tu hai a che fare con delle persone in uno spazio e in un tempo determinato, cioè noi ora ci troviamo a Como, quindi a che cosa è che ti interessa a te, a te ti interessa che con i musulmani che stanno a Como nel 2008 tu possa avere una convivenza civile. Questa cosa qui può essere realizzata tranquillamente. Ti devo chiedere una cosa, è vero che si può realizzare, però conforta questa tua presa di posizione, questa tua conclusione su questo argomentare, una mia convinzione è che è questa, è necessario comunque che a queste persone che vivono tra noi venga fatta imparare la lingua, venga insegnata la lingua. È fondamentale. Fondamentale perché altrimenti non ci si capisce, questo è molto importante, e seconda cosa è necessario a mio parere che non si faccia l'errore che tu forse non conosci ma che fu compiuto quando ci fu l'immigrazione dei meridionali, di ghettizzarli, di metterli tutti quanti insieme, bisogna invece che siano obbligatoriamente in qualche modo divisi, non uno per uno, in modo che ci sia davvero l'integrazione. Certo, vedi questo presuppone però che dentro ciascuno di noi ci sia la consapevolezza di un modello complessivo di società, di persona, di famiglia, di civiltà al cui interno si definisce un percorso vincolante per tutti quelli che liberamente scelgono di vivere qui per migliorare le loro condizioni di vita. Quindi delle regole. Il problema è che queste regole o non ci sono o se ci sono non vengono fatte rispettare. Bene, allora ci stiamo avviando alla conclusione di questo incontro ma solo la parte pubblica perché poi io e Magdi Cristiano continuiamo a parlare per conto nostro, peggio per voi che non saprete di che cosa abbiamo parlato, rimarrà un nostro segreto. Mi dicono di mettere in favore di telecamera ma lo faccio molto volentieri, il libro sul quale poi infine dobbiamo interrogarci per chiudere questo incontro pubblico, cioè grazie Gesù, quello che ti ha, che racconta come appunto sei diventato cristiano. Parliamo ancora un poco di questa tua conversione. Sì, sai è stato il traguardo di un percorso tormentato, complesso, che io amo rappresentare come un fiume che cresce man mano con l'apporto di una risorsa vitale da parte di tanti affluenti. L'affluente principale è stato certamente l'incontro con tante persone che indicano un fatto, ecco forse questo è importante dire, la necessità dei testimoni. Abbiamo bisogno di tanti testimoni, testimoni di fede e testimoni di valori che siano in grado di recuperare la figura dell'autorità morale che oggi si tende a perdere sempre più in seno alla famiglia, alla scuola, alla società, ai mezzi di comunicazione di massa, alla politica e persino anche all'interno stesso delle istituzioni religiose. Senti allora per chiudere, mentre ci sfumano, non lo so quanto tempo continuerà questa nostra ripresa, prima parlavamo e mi hai confessato di avere giocato a calcio ma di non essere tifoso di alcuna squadra. Parlami di questa tua, quando giocavi? Quando eri dai salesiani? Esatto, quando ero dai salesiani. Questo è un classico. Al centro degli istituti salesiani c'è sempre il campo di calcio. Come no? Il campo di calcio. Certo. Quindi ho fatto parte per tanti anni della squadra di calcio dei salesiani, poi però dopo il mio arrivo in Italia, a partire dal 72, non giocando più... Grazie. Grazie. Grazie.